solo chi possiede un animale che sia un cane un gatto o altro sa cosa significa amarlo accudirlo e prendersene cura ogni giorno amore vero e incondizionato a volte neanche quello tra due persone può essere paragonato allo stesso modo loro sono sempre lì accanto a noi ci amano e ci accettano con i nostri pregi e difetti non chiedono niente in cambio solo di essere amati non comunicano a parole ma attraverso i loro gesti esprimono tutto l'affetto e l'amore che hanno da dare i loro occhi sono lo specchio della loro anima pura loro infatti riescono a capire quando stiamo soffrendo quando stiamo male o siamo tristi sanno riconoscere quando ci sentiamo soli o abbiamo bisogno di aiuto non conoscono la cattiveria nell'invidia o l'odio solo l'amore e sono veri e sinceri sempre condividono con noi tutto gioie e dolori sono fonte per noi di felicità e benessere il legame che si viene a creare nel tempo è fortissimo nel momento in cui purtroppo vengono a mancare il dolore che proviamo è forte e straziante capita di nascondere questo dolore per paura di sembrare agli occhi degli altri esagerati o eccessivi quante volte abbiamo sentito in fondo era solo un cane o un gatto non era una persona sono frasi che fanno male dette in modo superficiale stupido da chi non può capire cosa voglia dire amare un animale il dolore è universale non esiste alcuna differenza ogni forma di amore o di dolore merita al massimo rispetto il dolore per la perdita di un animale domestico è qualcosa di così intimo e soggettivo che solo chi l'ha vissuto può capire è paragonabile a quello che possiamo provare per la perdita di una persona cara possiamo avere amato in vita con la stessa intensità sia una persona cara che il nostro animale domestico gli animali hanno una vita più breve della nostra e questo fa sì che prima o poi ci troviamo a dover inevitabilmente affrontare il dolore per la loro perdita ma dove va la loro anima nel momento della morte essi raggiungono il ponte dell'arcobaleno quando un animale muore secondo un'antica leggenda degli indiani d'america è proprio lì che va a stare una sorta di paradiso dove gli animali possono vivere in pace senza soffrire tornano giovani in salute e felici in questo posto aspettano i loro umani chi in vita li ha amati e se ne è preso cura quando arriverà la fine anche per i loro padroni loro saranno lì ad aspettarli per stare insieme nuovamente la chiesa cattolica non si è mai espressa con chiarezza riguardo questo argomento secondo la dottrina cristiana dio ha creato ogni essere vivente quindi anche gli animali la bibbia però non menziona nessun paradiso per gli animali gli uomini sono le uniche creature ad avere un'anima ma non è così se per anima intendiamo tutte quelle emozioni sentimenti e amore incondizionato che gli animali ci donano allora sì gli animali hanno un'anima è bello credere questo sapere che in qualche modo saremo legati per sempre ai nostri cari animali domestici